Era nell'aria da giorni la brutta notizia. Le sei squadre piemontesi di Serie D sono state accomunate, da un lato e come al solito con le sei squadre liguri, poi con una sola lombarda, la caronnese, pare su diretta richiesta in lega del team del presidente Reina e quindi con cinque compagini toscane. Un accorpamento quest'ultimo assolutamente inedito. Impossibile stavolta sventare, in assenza di un vero interlocutore locale in federazione, il colpo di mano, che comporta un notevolissimo aumento di spese per le squadre piemontesi e, se è per questo, anche per quelle toscane. Tra Verbani e Prato ci sono 400 chilometri, tra Borgosesi e Lucca 350, tanto per fare soltanto due esempi. Ecco il nuovo girone A. Borgosesi, Abra, Casale, Chieri, Fossano, Verbagna, Piemonte, Caronnese, Lombardia, Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, Liguria, Ghiviborgo, Lucchese, Prato, Realforte, Querceta, Seravezza, Toscana. Nel girone B, quest'anno, a 20 squadre, ci sono 17 Lombarde e 3 Trentine. Salvi i derby tra Legnano, Castellanzese, Inveruno e Milano City, società tutte racchiuse in un fazzoletto. Queste le prime considerazioni dei dirigenti di Verbani e Borgosesia, dice il presidente dei Bianco Cerchiati, Elio del Monaco. Siamo molto perplessi. Andare cinque volte in Toscana ci costerà molto di più sul piano economico, dato che per le esigenze di chilometraggio degli autisti dei Pullman dovremo di certo partire sempre al sabato. Faremo sentire la nostra voce, dopo esserci consultati e anche con i colleghi delle altre piazze piemontesi. Sulla stessa lunghezza d'onda, anzi di più, il presidente del Borgosesia, Michele Pizzi. Stiamo facendo i conti, ma certo queste scelte ci lasciano basiti. Chi decide queste cose senza consultarci mai? E perché dobbiamo sempre abbozzare? Sul piede di guerra anche a Casale, Fossano e Bra. Intanto la prima gara ufficiale in Coppa Italia sarà nel pomeriggio del 18 agosto, il consueto derby Borgosesia-Verbagna. I calendari. Il campionato comincia il primo settembre, tra pochi giorni.